Il via libera è arrivato sul fronte nazionale con le parole del commissario Figliuolo. Si può partire con le vaccinazioni per gli over 40 dall'inizio della prossima settimana. Nella circolare inviata dal commissario si fa riferimento all'opportunità di iniziare con la fascia dei nati fino al 1981, ma con l'esplicita richiesta di non lasciare indietro la campagna per persone fragili e la fascia di popolazione più anziana. L'Italia ha superato quota 25 milioni di dosi, ma attualmente anche a causa di numerosi rifiuti nei confronti del vaccino AstraZeneca, nonostante le ripetute raccomandazioni circa la sua sicurezza da parte della comunità scientifica, sono ancora molti i sessantenni non immunizzati, nonostante il tasso di letalità del Covid-19 per questa fascia di cittadinanza sia molto alto. Sul fronte Pfizer, dopo l'ok anche dell'EMA, a posticipare dopo i 21 giorni la somministrazione della seconda dose, nonostante lo scetticismo della stessa azienda, in Campania si è optato per una soluzione di mezzo, tra i 42 giorni indicati dal Ministero della Salute italiano e le tre settimane finora indicate, puntando su un richiamo a 30 giorni che varrà soltanto per quei cittadini che effettueranno la seconda dose dopo l'annuncio. Stesso discorso anche per il vaccino Moderna, con il richiamo precedentemente fissato a 28 giorni, che utilizza lo stesso principio, ovvero quello a RNA messaggero. Continua a far discutere il concorso per il reclutamento di funzionari, impiegati e tecnici destinati agli uffici della Regione Campania e di vari comuni. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha bocciato il Formez, accogliendo nel merito i ricorsi di alcuni candidati, sotto accuso almeno quattro quesiti che componevano il questionario della prova scritta, che ha interessato 9.016 candidati. Secondo i magistrati della quinta sezione del Tarta, le domande erano ambigue o prevedevano più di una risposta valida. Sarebbero almeno quattro le sentenze che evidenziano gli errori del Formez nella predisposizione dei compiti. I quattro ricorsi erano stati presentati dai candidati che a causa delle risposte fornite erano stati poi ritenuti in idonea al passaggio successivo. Grazie alla sospensiva avevano potuto comunque proseguire nelle prove d'esame. Un mezzo pasticcio dunque per un concorsone avviato nel 2019. A breve i vincitori termineranno anche la formazione, ma sul reale impiego bisognerà attendere l'esito di un'eventuale discussa terza prova. Nuovo cambio in corsa per la campagna vaccinale. A pochi giorni dalla modifica della struttura commissariale del governo che aveva allungato i tempi del richiamo per Pfizer e Moderna a 42 giorni dalla prima dose, la regione Campania cambia ancora le carte in tavola. Le seconde dosi verranno infatti effettuate a 30 giorni. Una decisione presa dall'unità di crisi dopo le proteste e le preoccupazioni dei cittadini già vaccinati aumentate dopo la nota di Pfizer in cui l'azienda farmaceutica non si prendeva la responsabilità dei possibili effetti collaterali dovuti al ritardo nella somministrazione della seconda dose del vaccino che poteva inficiare l'immunizzazione. Il governo italiano, supportato da EMA, aveva comunque deciso di tirare dritto con la scelta dei tempi di attesa a 42 giorni ricalibrando tutta la campagna vaccinale. Ora invece la Campania torna a diminuire i tempi di attesa. Questo naturalmente si ripercuoterà sulla pianificazione delle ASL locali che avevano già notificato agli utenti vaccinati con prima dose la data della successiva inoculazione e postponendola a 42 giorni. La regione Campania invece, alla luce del nuovo accordo sulle consegne di nuove dosi Pfizer e Moderna ha avvisato le aziende sanitarie che tutti i cittadini che fino ad oggi hanno ricevuto la prima dose verranno rivaccinati entro 21 giorni per Pfizer e 28 per Moderna. Tutti coloro che invece riceveranno la prima somministrazione da domani verranno richiamati dopo 30 giorni. Nel frattempo presso l'ASL di Avellino sono arrivati 15 nuovi vassoi di Pfizer per un totale di 16.550 dosi utili a portare avanti senza patemi la campagna vaccinale. Domani invece, grazie alle 6.000 dosi di AstraZeneca in deposito, inizieranno i richiami per il personale scolastico. Le poche dosi di Johnson & Johnson a disposizione stanno permettendo invece la vaccinazione dei detenuti non fragili. L'obiettivo è quello di iniziare i lavori entro fine maggio e concedere alla cittadinanza, in un tempo stimato intorno ai 30 giorni, di poter restituire alla mobilità almeno una corsia, quella in direzione est, ovvero che da via Morelli porta a via Acton. Questo l'auspicio del sindaco Luigi De Magistris, intervenuto su un organo di stampa per dare contezza dei lavori di ripristino della viabilità della Galleria Vittoria, che riguardano ovviamente in primis la sicurezza della stessa. Un progetto esecutivo realizzato dall'ingegnere Filippo Cavuoto e che il Comune ha affidato all'ANAS proprio per la grande esperienza della società nel condurre i lavori stradali. L'obiettivo è quello anche di liberare nel corso dell'inizio dell'estate via Partenope dal traffico veicolare, in modo da consentire nuovamente più spazio pedonale alla cittadinanza, soprattutto nell'ottica del distanziamento sociale anti-Covid e del rilancio del settore turistico, che negli anni della Giunta De Magistris ha goduto di un boom senza precedenti e che a causa della pandemia è oramai al palo già da 14 mesi. A consentire tutto questo saranno le tempistiche dei lavori, tenuto conto del rispetto delle norme di sicurezza per la tutela degli operai, mentre determinate operazioni di controllo circa la tenuta della struttura sono state svolte proprio negli ultimissimi giorni. Meccanismo di calcolo tarato sui tempi delle forniture, ecco perché si è passati da 40 a 30 giorni prenotazioni che saranno riprogrammate. La caso Pfizer, i chiarimenti della direttore generale dell'ASR di Avellino Maria Morgante, che ha parlato anche dello stato di avanzamento della campagna vaccinale in Irpinia. L'obiettivo è quello di calcolare dei giorni in base a quelle che sono le forniture che vengono fatte a livello regionale, per cui si era passata a 40 giorni, poi si è passata a 30 giorni, quindi da oggi la vaccinazione era garantita il trentesimo giorno e per le vaccinazioni già fatte si continuava a mantenere 21-28, comunque massimo 30 giorni. Quindi diciamo che queste sono soltanto delle scelte tecniche e non altre. Noi per quanto riguarda gli over 60 abbiamo pochi centri dove dobbiamo completare la vaccinazione, e queste tra i vari centri è il Campoconi, quindi Avellino, Montefalcione, Montoro, ma diciamo che rispetto al numero residuo di persone ancora da vaccinare over 60 abbiamo in alcuni centri tipo Montoro che basterà ancora un giorno e finiamo di vaccinare gli over 60, ad Avellino 4-5 giorni, Montefalcione idem, quindi diciamo non abbiamo la necessità di aprire un altro centro per completare la vaccinazione degli over 60. Naturalmente dobbiamo tener conto che in questo momento abbiamo da recuperare i tre giorni che c'è stato lo slittamento per la seconda dose, abbiamo più o meno 2.500 vaccini da recuperare come seconde dosi che le dobbiamo fare entro il trentesimo giorno e intanto arriva pure la seconda dose di AstraZeneca per il mondo scuola, forse dell'ordine, quindi diciamo che in questo momento si stanno mettendo insieme una serie di scadenze. Il problema non è fare un open day, organizzare un open day è semplice, però bisogna avere anche i vaccini e bisogna fare i calcoli perché, ripeto, l'ho detto sempre, non è soltanto dire oggi facciamo vaccinazione un open day, facciamo mille persone, duemila persone, quelle che saranno e poi non teniamo da parte quelle che sono le vaccinazioni che servono per garantire la seconda dose. Ripeto, noi abbiamo tutto il mondo scuola, forse dell'ordine, che dal 13, quindi oggi, abbiamo iniziato a fare le seconde dosi, quindi se abbiamo un numero di dosi AstraZeneca che ci permetterà di garantire le seconde dosi e quindi poi di aprire anche un centro per fare l'open day, ben venga. Al momento non siamo in queste condizioni, per cui io devo e ho l'obbligo di garantire la seconda dose. Si chiama ITA, Intese Territoriali di Inclusione Attiva, il progetto che ha tra gli obiettivi strategici per il contrasto alla povertà la creazione di competenze chiave o tecnico-professionali. Un'azione destinata a soggetti residenti in 28 comuni del Consorzio Ambito 5, che fa capo ad Atripalda, in condizioni di svantaggio economico e sociale. L'area di riferimento ai territori dell'Irpinia dove si produce il vino e proprio per una delle eccellenze del territorio passa la creazione di competenze finalizzate al contrasto alla povertà, così come pensato dal Consorzio diretto da Carmine De Blasio. Un progetto reso possibile dalla collaborazione con il Consorzio dei Vini di Irpinia. Nei vigneti delle aziende aderenti lo stage per l'acquisizione di competenze sul campo per 37 soggetti che dopo ore di teoria realizzano la pratica proprio tra i filari delle aziende vitivinicole irpine. Diventeranno operatori alla vinificazione e tecnici della conduzione del vigneto e della vinificazione. Cinque commercialisti e un imprenditore sono stati messi agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Napoli con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito tra la Campania, la Puglia e altre regioni italiane sequestri di beni per un totale di 27 milioni di euro a 62 società. 93 sono i denunciati per il reato di indebite compensazioni fiscali. Secondo quanto emerso dalle indagini, i sei avevano organizzato una truffa nei confronti del fisco basata sulle compensazioni tributarie che permettono ai contribuenti di utilizzare i crediti per il pagamento dei debiti con il fisco. Il meccanismo consisteva nella creazione di falsi crediti IVA attribuiti a società cartiere amministrate da prestanome. I crediti venivano riportati nelle dichiarazioni e vistati per conformità da consulenti fiscali compiacenti. In molti casi venivano ceduti per essere utilizzati a compensazione anche da parte di società estranea nell'organizzazione. I responsabili della truffa erano un commercialista e un imprenditore di Napoli, già denunciati più volte per reati tributari. Facevano parte dell'organizzazione altri quattro fiscalisti. Cinque persone finite in manette e diverse piazze di spaccio chiuse. Il risultato di un'operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale Compagnia di Marano nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA Partenopea. Il blitz è scattato stamane nel territorio di Marano di Napoli. Cinque le ordinanze di custodia cautelare, di cui una ai domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito, spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. Il cartello criminale aveva radicamenti anche nel comune di Calbizzano. Il business della droga veniva realizzato seguendo prevalentemente due canali. La vendita statica avveniva all'interno di due piazze di spaccio esistenti a Marano di Napoli, di fronte alla chiesa di San Ludovico D'Angio, e in un'enoteca gestita da uno degli arrestati. La vendita dinamica invece avveniva mediante appuntamento concordato mezzo telefono tra spacciatore e acquirente, rendendo difficile e imprevedibile l'individuazione del luogo dell'incontro da parte delle forze dell'ordine. Covid ancora una vittima in Irpinia ha perso la sua battaglia contro il virus l'architetto Igor Russomanno, 64enne di Avellino, genero del direttore del quotidiano del Sud Gianni Festa. Il 64enne è morto nella terapia intensiva dell'area Covid dell'azienda ospedaliera ramoscati. Sul fronte dei contagi sono 66 nuovi positivi in Irpinia, 1.174 i tamponi effettuati e quanto viene fuori dal bollettino dell'Asli, il tasso di positività provinciale scende al 5,6%. Il virus circola in 23 comuni, contagio in doppia cifra ad Avellino, più 15 casi. Seguono Montefredane con 6 nuovi positivi, Montefalcione, Monteforte e Solofra con 5 casi a testa. Una truffa andata decisamente a buon fine a discapito di un anziano signore di 91 anni avvenuta ieri in viattagliamento. L'uomo è stato derubato di gioielli e ori dal valore totale di circa 50 mila euro. La notizia data in anteprima dal mattino trova conferma nel racconto della figlia del 91enne che è richiesto massima privacy dato che l'intera famiglia è psicologicamente provata da quanto è avvenuto, ma ci tiene a raccontare l'episodio come monito per tutti gli altri cittadini. Quindi hanno telefonato sul telefonino di mio padre e hanno fatto, mio papà dice, la voce di Giambiero, mio fratello, che piangeva, che diceva che doveva arrivare un pacco qui a casa e doveva dare 4.800 euro. Subito dopo è suonata la porta, papà è andato a dire ed era un ragazzo il quale gli ha chiesto i soldi. Papà ha detto che i soldi non li aveva e quindi voleva qualcosa di garanzia. Intanto mio fratello dice che al telefono continuava a chiamare dicendo che lui piangeva e insomma papà aiutami, aiutami, aiutami. E quindi questo ragazzo, perché era un ragazzo, il papà l'ha fatto entrare dentro, l'ha portato in camera da letto e non lo so, ripeto, è un'azione che io non riesco a giustificare, in quanto mio padre ha aperto la cassaforte e gli ha dato tutti i gioielli. Nell'appartamento accanto, intanto, figli e nipote sentono le voci dalla casa del padre, entrano dentro e trovano il corriere nella camera da letto. Il ragazzo col punto scappa, gioielli in mano, strattona le donne facendo cadere a terra la figlia dell'anziano e si dà la fuga per la tromba delle scale. Il colpo è andato a segno per la disperazione di un'intera famiglia che ha perso ori e ricordi dal valore tra l'altro considerevoli. Il bottino si aggirerebbe sui 50.000 euro. Tra il 10 e l'11 maggio 2021 i militari del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per una somma di denaro pari a circa 225.000 euro nei confronti di un commercialista esercente alla propria attività nel comune di Piano di Sorrento e della sua consorte per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per due anni di imposta consecutivi 2016-2017. Il provvedimento cadelare reale è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata a seguito degli ulteriori accertamenti esperiti dalla tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense nell'ambito di un'attività di indagine svolta dal predetto reparto che trae origine dall'estito di una verifica fiscale conclusa dalla stessa tenenza nell'anno 2020. In particolare nel corso della suddetta attività di verifica a seguito dell'esame delle scritture contabili acquisite presso lo studio professionale dell'indagato e dell'analisi delle indagini finanziarie eseguite sui conti correnti riconducibili a professionisti e alla moglie dello stesso, per gli anni di imposta 2016-2017, per i quali la dichiarazione dei redditi risultava omessa, emergevano talune anomalie relative ad operazioni di versamento sui conti correnti indirettamente riconducibili all'indagato ed intestati alla consorte, la quale prestava attività di collaborazione nello studio professionale del marito. Tali anomalie sui versamenti giustificati dal commercialista in serie di verifica mediante asserzioni inverosimili e non riscontrabili, considerate quali compensi per l'attività lavorativa del professionista, venivano posti a base della constatazione mossa dai finanzieri sul piano fiscale, nonché quale base imponibile per il calcolo dell'imposta evasa. Il superamento delle soglie previste dalla normativa penale tributaria per gli anni di imposta 2016-2017 determinava la segnalazione delle condotte poste in essere dall'indagato alla procura della Repubblica di Torre Annunziata e la conseguente adozione del decreto di sequestro preventivo dell'imposta evasa. Non essendo state rinvenute somme di denaro sufficienti sui conti correnti intestati all'indagato e alla moglie, è stato sottoposto a sequestro l'immobile di proprietà di quest'ultima. Incidente sul lavoro, muore un giovane di 34 anni. È accaduto in un panificio di guardia a Lombardi. Secondo una prima ricostruzione, il 34enne, di origini romene e residente in Spagna, dipendente di una ditta esterna al panificio, è stato travolto da un pesante macchinario un sollevatore che stava provvedendo a installare inutili i soccorsi sul posto. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Il luogo dell'incidente è stato sottoposto a sequestro. La salma dell'operaio è stata trasferita all'obitorio del Moscati di Avellino in attesa dell'esame autoptico. Si tratta del secondo incidente sul lavoro nel giro di poco più, di 48 ore. L'altro ieri un operaio 38enne è rimasto gravemente ferito mentre era al lavoro nel cantiere per la realizzazione dell'alta capacità. Nel primo trimestre di quest'anno in provincia di Avellino ci sono state circa 650 denunce di infortuni sul lavoro, sbotta Franco Fiordellisi, segretario generale della CGL Erpina. Non è possibile, non si può andare avanti così. è arrivato il momento di agire, la politica si assuma le proprie responsabilità. È urgente intervenire a cominciare dal potenziamento degli organi di controllo. Oltre nove rifiuti di ogni genere per ogni metro lineare di arenile. I rifiuti continuano ad essere ospiti indesiderati dei nostri litorali. Nelle 14 spiagge monitorate in campagna sono stati censiti 13.256 rifiuti in un'area totale di 39.700 metri quadrati. Una media di 947 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia, che supera di gran lunga il valore soia o il target di riferimento stabilito a livello europeo per considerare una spiaggia in buono stato ambientale, ossia meno di 20 rifiuti spiaggiati ogni 100 metri lineari di costa. A parlare chiaro sono anche i nuovi dati dell'indagine Beach Litter 2021 realizzata dai circoli locali di lega ambiente e che l'associazione ambientalista lancia in vista del weekend 14, 15 e 16 maggio di spiagge fondali puliti. Oltre alla rimozione dei rifiuti, l'obiettivo di spiagge fondali puliti è anche quello di sensibilizzare i cittadini sul grande problema del marine litter che non risparmia il Mediterraneo. Nel Salernitano sono state sei le spiagge monitorate, la spiaggia presso la foce del fiume Tusciano a Battipaia, l'area protetta lega ambiente eboli, la spiaggia libera Ponte Cagnano-Faiano e la spiaggia dei Pioppi a Pollica, la spiaggia dell'oasi dunale Pestum a Capaccio Pestum e la spiaggia Mercatello a Salerno, dove sono stati ritrovati 5.475 rifiuti in 23.000 metri quadrati, con una media di 913 ogni 100 metri lineari di spiaggia. La spiaggia di Pestum è quella con il più alto numero di rifiuti, 1.381, di cui il 32% sono riconducibili alla cattiva depurazione delle acque, come i cotton fioc, ben 429. Segue la spiaggia libera di Ponte Cagnano, con 964 rifiuti, in gran parte legati al materiale da imballaggio, come tappi e anelli di bottiglie o buste, piccoli sacchetti. La spiaggia di Mercatello a Salerno è la spiaggia dove il 100% dei rifiuti ritrovati, 78, sono tutti costituiti di polimeri di plastica, mentre tra le prime in campagna per il ritrovamento di mozziconi di sigarette, 526. I rifiuti censiti da lega ambiente sulle spiagge campane sono di ogni forma e tipo, per lo più usa e getta, legati principalmente agli imballaggi, al consumo di cibo e ai rifiuti da fumo, dalle bottiglie ai contenitori e tappi di plastica, dai muzziconi di sigaretta, ai calcinacci e ai frammenti di vetro, per arrivare a dischetti, guanti e mascherine. La plastica resta il materiale più trovato dai rifiuti spiaggiati. Su circa la metà delle spiagge campionate, la percentuale di plastica è guaglia e supera il 90% del totale dei rifiuti monitorati, mentre sul 71% dei lidi monitorati sono stati rinvenuti guanti, use e getta, mascherine o altri oggetti riconducibili all'emergenza sanitaria Covid-19, rinvenuti anche quest'anno dischetti utilizzate come biofilm carrier nei depuratori. Il Comune di Centola ha bandito un concorso pubblico per la realizzazione di un'opera di street art da realizzare in via Saline di Palinuro con il tema Il mito del nocchiero di Enea. Il bando, pubblicato sul sito dell'ente, dichiara l'assessore al turismo Angela Maria Ciccarini, prevede l'idealizzazione e la realizzazione di un progetto che riqualifichi dal punto di vista estetico ed urbanistico il muro di contenimento prospicente via Saline frazione Palinuro, tramite opere di street art e arti visive in generale. Ogni partecipante o gruppi di partecipanti potrà presentare un solo progetto che dovrà avere come tema Palinuro il nocchiero di Enea. All'artista vincitore sarà attribuito un premio di 3.500 euro. Vogliamo, aggiunge l'assessore, sostenere la cultura e promuovere il murale e lo street art come forma creativa e comunicativa delle giovani generazioni in grado di migliorare e rivalutare esteticamente e socialmente spazi e luoghi cittadini. Un'operazione di riqualificazione urbana ma anche un progetto che punta a valorizzare artisti emergenti. Il progetto coinvolge artisti in forma singola in gruppi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età residenti in Italia o all'estero. L'iniziativa intende inoltre promuovere la cultura della libera espressione artistica nel pieno rispetto della proprietà altrui in luoghi reputati idonei dall'amministrazione comunale per educare alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico artistico monumentale cittadino. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà presentare un solo progetto il cui tema, Palinuro il nocchiero di Enea, libro quinto dell'Eneide, potrà essere interpretato liberamente dall'artista. L'opera dovrà essere di dimensioni coerenti con la superficie delle aree di intervento mentre la tecnica di realizzazione è libera, purché vengano utilizzati materiali adatti a luoghi aperti. Tra tutti i progetti pervenuti sarà scelto un solo vincitore, a giudizio insindacabile di un'apposita giuria che sarà nominata con un atto successivo ad avvenuta scadenza dei termini di presentazione delle domande. La richiesta con il progetto artistico, ricorda l'assessore al turismo, va presentata entro le ore 12 del 27 maggio all'ufficio protocollo dell'ente. Il testo completo dell'avviso e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Centola. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà una nuova perturbazione di raggiungere l'Italia. Manca un'area di alta pressione che ci protegga e così questo nuovo sistema nuvoloso andrà a attraversare un po' tutto il nostro paese tra venerdì e le prime ore di sabato. In particolare le piogge torneranno venerdì a interessare le regioni settentrionali e il versante tirrenico, prime zone raggiunte da questa perturbazione, ma poi a fine giornata ecco che le piogge arriveranno anche nelle regioni meridionali. Quindi in definitiva ci attende venerdì particolarmente variabile e instabile, soprattutto a partire dal pomeriggio quando torneranno piogge abbastanza diffuse al nord sulle regioni tirreniche e come vi dicevo alla fine del giorno verrà raggiunto anche il medio adriatico e il sud, quindi tutta l'Italia verrà attraversata da questa perturbazione che poi insisterà anche sabato mattina nelle regioni meridionali. Temperature di conseguenza in diminuzione man mano che arrivano le piogge, vi segnalo tra l'altro anche un po' di vento al centro-sud, ma poi nel weekend tende a migliorare.